Marina Perna, Assessore al Comune di Venafro. Ieri lei avrebbe voluto seguire con la sua famiglia Fuoco Incrociato, se non che? Se non che, improvvisamente, appena prima dell'inizio della trasmissione, il segnale è andato via. Abbiamo insistito, ci siamo collegati a altre televisioni, niente da fare, il segnale è andato via. La cosa sembra quanto sospetta, perché poi, immediatamente, successivamente, alla chiusura della fine della trasmissione, il segnale è ritornato. Nonostante questo, sono state in contatto con molti cittadini, qualcuno ha registrato la trasmissione, l'abbiamo condivisa, sono state molto importanti le parole che ha detto il sindaco di Venafro, perché ha dato voce a tutti i cittadini, finalmente noi preteniamo risposte. Sabotaggio o casualità? Difficile dirlo. È certo però che Teleregione Molise si tutelerà in tutte le sedi. I nostri avvocati sono già al lavoro per ricostruire quanto accaduto ieri sera a Venafro, in pieno centro, pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione Fuoco Incrociato, con fari puntati sull'emergenza e inquinamento nella piana, il segnale è andato via, come se fosse stato schermato, per poi ritornare, magicamente, non appena la trasmissione si è conclusa. Nessun problema, invece, si è verificato in altre parti della città. Sabotaggio o casualità? A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. La frase attribuita all'ironico Giulio Andreotti è ormai diventato un proverbio di uso comune. Qualcuno ha fatto in modo che la trasmissione non si vedesse? Una longa manus ha manomesso le nostre apparecchiature o schermato il nostro segnale solo in una determinata zona di Venafro? Possibile del resto, a parlare per primi di sabotaggio, sono i venafrani che ieri attendevano di approfondire la tematica, ascoltando Teleregione. Hanno bloccato le linee? Commenta su Facebook un telespettatore. E ancora, vuoi vedere che dietro tutto questo ci sono i massoni e altri messaggi ancora? Teleregione si rivolgerà all'autorità giudiziaria e nel contempo non arretrerà neanche di un centimetro, continuerà ad occuparsi dei problemi dei cittadini e, nel caso specifico, della salute dei venafrani, senza timore di scoprire e raccontare la verità. Grazie a tutti.